In Consiglio regionale è stata discussa la mia interrogazione rispetto al riequilibrio di posti letto nell'area Vasta 1 e quindi nella provincia di Presurbino. Infatti rispetto agli standard di qualità previsti dal decreto ministeriale, nella nostra provincia mancano all'appello oltre 300 posti letto. La mancanza di questi posti letto si è aggravato ulteriormente anche a causa della scelta che la ragione ha fatto di chiudere l'azienda Marche Nord, azienda che in qualche modo riusciva a garantire un numero di prestazioni più elevato rispetto allo standard, grazie agli ottimi standard di qualità, anche se devo dire che anche se c'era l'azienda Marche Nord, comunque i problemi c'erano sia per quanto riguarda le liste d'attesa che la mobilità passiva. Però ad oggi con la chiusura dell'azienda Marche Nord questa mancanza dei 300 posti letto che la nostra provincia ha è sicuramente ancora più evidente. Quando parliamo di posti letto vuol dire più risorse, soprattutto più personali, più tecnologia e quindi più posti letto vuol dire una maggiore capacità da parte delle varie sotture ospedaliere di poter rispondere in modo migliore, più veloce a quelle che sono le esigenze dei cittadini. La nuova organizzazione sanitaria prevede appunto la creazione di nuove aziende provinciali, per quanto riguarda la provincia di Pesurbino però ha comportato la chiusura dell'azienda Marche Nord e io ritengo che sia necessario fare in modo che tutte le nuove aziende che partiranno, questo è il progetto dell'attuale giunta regionale, le nuove aziende dovranno partire dal gennaio 2023, queste aziende devono partire tutte dalle stesse condizioni. La base per poter partire tutte dalle stesse condizioni è sicuramente quello di avere un numero di posti letto adeguato rispetto a quelli che sono gli standard qualitativi. Per dare un numero a 300 posti letto che corrispondono quasi a un altro ospedale come quello di Pesero nel nostro territorio provinciale, o meglio ancora vorrebbe dire riuscire ad avere un numero comunque di posti letto disponibili da poter utilizzare per rafforzare tutte le varie strutture presenti nel territorio, a partire da quella di Pesero, quella di Fano, quella di Urbino, quella di Pergola, tutte le strutture che sono come dire distribuite nel nostro territorio provinciale. Quindi 300 posti letto sono importanti, possono fare la differenza per riuscire a ridurre quella che è la mobilità passiva e le liste d'attesa. Ritengo che la regione, alla luce del fatto che è deciso di chiudere Marca Nord, debba quanto prima mettere nelle stesse condizioni la provincia di Pesero Urbino rispetto alle altre province presenti nel nostro territorio regionale.